Anche oggi ci incontriamo intorno alla parola del Signore. Il brano che leggerò per essere lo spunto della nostra meditazione è in Genesi al capitolo 19 a partire dal verso 15. Da questo brano cominceremo per considerare quale sia il messaggio dell'Evangelo, quale sia la ragione della croce, ma anche il modo in cui noi dobbiamo prepararci a quelle che sono le promesse, le aspettative che Dio ha rispetto alla sua chiesa e rispetto al futuro che Gli ha preparato per noi. Leggiamo da Genesi al capitolo 19 i versi 15 fino al verso 17. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo, alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli indugiava e quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figlie perché il Signore lo voleva risparmiare. Lo portarono via e lo misero fuori della città. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse, metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Esci dalla città e non guardarti indietro, non voltarti indietro. Questo era il monito, il severo monito, il comandamento che Lot ricevette. Ora, vedete, questo insegnamento dell'evento di Sodoma e Gomorra viene citato da Gesù in alcuni dei suoi sermoni proprio perché egli vuole indicare qualche cosa che non riguarda solo il passato oppure una verità che egli ci vuole trasmettere riguardo a un fatto storico ma perché riguarda qualche cosa che sta anche davanti a noi. Infatti Gesù citò questo passo nel suo sermone profetico che parla degli ultimi tempi, cioè quello che sta ancora davanti a noi. Perché lo fece? Ma perché quello che accadde a Sodoma è la raffigurazione di ciò che avverrà negli ultimi tempi. Infatti Gesù dirà come avvenne ai tempi di Sodoma, ai tempi di Lot. Così avverrà nel giorno in cui si approssima il ritorno del Signore. E allora dobbiamo comprendere qualche cosa che riguarda proprio le fondamenta dell'Evangelo. Perché? Perché Cristo ha lasciato il cielo? Perché è salito sulla croce. Perché è morto per noi. Perché ha subito quella grave condanna e ha portato il peso dei miei e dei tuoi peccati. Ma perché Dio ha stabilito un giorno in cui, così come accadde per Sodoma, ci sarà un giudizio. Vedete, a noi piace sentir parlare di Dio come l'iddio d'amore. E quando parliamo di amore non riusciamo a comprendere che nella perfezione della persona di Dio l'amore non è mai in contrasto con la giustizia. Anzi, l'amore è parte integrante della giustizia di Dio. E nel suo amore egli è giusto e nella sua giustizia egli ama. Che cosa intendo dire? Intendo dire che Gesù si presenta a noi come l'unica via di uscita da una realtà che è la più triste, che il mondo possa mai udire. Cioè che Dio ha stabilito un giorno, e questa era la predicazione degli apostoli, in cui giudicherà il mondo. E gli uomini con i propri peccati non potranno mai superare quel giorno. Ed è per questo, in vista di quella, di quel evento così duro, così tremendo. È scritto che gli uomini grideranno ai monti cadeteci addosso pur di fuggire al momento del giudizio di Dio. Ebbene, per dare una via d'uscita all'umanità che a causa del proprio peccato è sottomessa al giudizio di Dio, Dio ha offerto suo figlio come sacrificio sostitutivo sulla croce. Egli ha portato i peccati del mondo, egli li ha portati sulla croce, li ha inchiodati sulla croce, li ha pagati. Li ha pagati affinché l'umanità trovasse in Cristo una via di salvezza dal giudizio, affinché i propri peccati, i peccati di ciascun uomo, fossero pagati da quel sangue versato e non dalla condanna che deve ogni uomo portare a causa del suo peccato, ma la condanna è caduta su Gesù. E la giustizia di cui l'uomo ha tanto bisogno per comparire dinanzi a Dio, Cristo l'ha offerta, sostituendosi sulla croce, prendendo il nostro peccato e offrendoci la sua giustizia di uomo che ha attraversato il corso della vita senza mai peccare. Ora vedete il tutto della croce ruota intorno al giudizio avvenire. E il giudizio avvenire non è qualche cosa di nascosto nella parola di Dio, non è qualche cosa che viene accennato in maniera oscura o poco chiara, qualcosa che riguarda pochissimi tra i super malvagi di questo mondo e delle epoche che ci hanno preceduto. No, no, non è questo. La Bibbia, l'Evangelo, presenta il giudizio come il fondamento su cui la croce viene piantata e la ragione per cui la croce viene offerta all'umanità. Perché? Perché c'è un giudizio e perché la legge perfetta di Dio condanna ogni uomo e ogni uomo ha peccato. L'apostolo Paolo nella lettera ai Romani ne parla in maniera molto chiara. Al capitolo 3 gli afferma che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, cioè sono separati e sottomessi ad un giudizio che nessuno può superare a meno che a meno che non lo affronti con la fede in Cristo Gesù. Ma che cosa vuol dire avere fede in Cristo Gesù? Vedete, l'amore di Dio si è manifestato in maniera straordinaria e meravigliosa quando Cristo ha lasciato il cielo ed è venuto sulla terra per portarci il messaggio della liberazione, della grazia rivolta a degli uomini che erano e sono colpevoli dinanzi a Lui. Questo immenso amore tende la mano verso l'umanità, ma la fede, la fede che è l'unico mezzo per poter trovare salvezza in Cristo Gesù, credere che egli sia morto al posto nostro e per mezzo della fede ristabilire quel contatto con Dio. Giustificati per fede abbiamo pace con Dio. Questo dice l'apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 5. e questo ci permette di approdare poi a quello che sempre l'apostolo Paolo dirà nel capitolo 8 della lettera ai Romani, cioè non c'è ora nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. La fede in Cristo ci trasforma, cambia la nostra posizione dinanzi alla legge e alla giustizia di Dio e da colpevoli diveniamo giustificati, diveniamo persone riconciliate da nemici, ci accostiamo di nuovo alla comunione perfetta con Dio. Perché? Perché il sangue di Gesù purifica il nostro cuore. Ma la fede come si manifesta? È sufficiente dire sì io credo che Cristo sia venuto a morire sulla croce per i miei peccati. Punto. Quindi sono salvato, non mi devo preoccupare di nient'altro e proseguire per la mia via. No, il punto è proprio questo. L'Evangelo viene predicato ed annunciato per spiegare questo in chiari termini. Che cos'è la fede? Qual è la fede che salva? Vedete, la fede non è semplicemente un credere all'esistenza di Dio, credere che Cristo sia salito sulla croce un tempo, ma è accostarsi a quella croce perché l'opera di Dio si compia perfetta in tutti coloro che credono. e quest'opera è chiaramente espresso nella parola di Dio è il ravvedimento e la disposizione del cuore dinanzi al messaggio di Dio a cambiare completamente la propria posizione, abbandonare cioè tutto ciò che è sgradito agli occhi di Dio, il peccato, e abbracciare intimamente Dio per conoscerne il suo amore e dedicarsi interamente a Lui. È, in altre parole, l'accostarsi a Dio per ricevere quello che la parola di Dio definisce il miracolo per eccellenza, cioè quello della trasformazione della mente, del cuore, la rigenerazione, la nuova nascita, cioè un contatto con Dio per mezzo della fede così intimo, da renderci persone nuove, capaci di portare frutto. Vedete, Gesù stesso disse in uno dei suoi insegnamenti, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, cioè non chi chiama Cristo Signore o chi crede nella sua venuta o chi asserisce sì che Dio esiste e che ha mandato un giorno suo figlio a morire sulla croce, ma chi si accosta a Lui con pura fede, offrendo un sincero e profondo ravvenimento, donando a Dio interamente la propria vita affinché Dio ne faccia uno strumento nelle sue mani, uno strumento che viene vivificato, trasformato, rigenerato, cambiato nella mente, nel cuore, negli intenti, nelle passioni, nei desideri, nei progetti e Dio diventi la luce che brilla nella sua vita dal punto che Gesù dirà di coloro che vengono raggiunti da questa fede, da questo miracolo, da quest'opera gloriosa che il Signore compie, che essi sono la luce di questo mondo. Perché? Perché Cristo, la vera luce, brilla in loro, nei pensieri, nelle azioni, nelle parole, nei gesti, fino anche nel volto, nelle espressioni. Ecco, noi abbiamo bisogno che Cristo viva in noi in maniera forte e la fede non può essere una piccola parte, lo sto ripetendo tante volte in questi giorni della nostra vita, ma deve poter essere qualcosa di glorioso e luminoso. Perché ho detto tutto questo a partire dal brano di Lot, che sembra essere stato un po' dimenticato. Ma perché, vedete, la parola di Dio ci insegna ad uscire dal mondo. Ora, cosa significa uscire dal mondo? Sodoma rappresenta il mondo. Il mondo inteso non tanto come pianeta Terra, ma come il pensiero che accompagna l'umanità, la mentalità, il cuore dell'uomo, che Dio definisce insanabilmente maligno, malvagio, ingannevole. E la parola di Dio ci insegna che il credente deve uscire da questo modo di pensare, deve abbandonare questo modo di vivere, deve abbandonare l'egoismo, deve abbandonare la ribellione, deve abbandonare la ricerca sfrenata del peccato, deve abbandonare l'indifferenza verso Dio per ritornare in una comunione, in un'armonia con Dio, attraverso la fede che si ha nella sangue di Gesù, in quel sacrificio che è stato offerto. Uscire da questo mondo vuol dire anzitutto liberarsi dal peso, dal fardello del peccato, dalla mentalità, del modo di pensare, dei valori di questo mondo. Uscire dal mondo vuol dire anzitutto questo. Ma c'è un altro aspetto che è raffigurato sempre in questo meraviglioso esempio, anche se così duro, perché duro è il giudizio che sta dinanzi all'umanità. Ed è il discorso che l'uscita di Lot raffigura in qualche modo quella che è la promessa che Dio ha fatto a tutti coloro che credono. La promessa cioè di prenderli e portarli in cielo, in una patria che non è questa. Tutto dell'Evangelo è volto verso il cielo. L'insegnamento di Gesù troverà sempre questo aspetto, cioè spinge gli uomini nel Sermone sul Monte, che possiamo trovare nei capitoli 5, 6 e 7 dell'Evangelo di Matteo. E con molta forza il Signore invita coloro che l'ascoltano a fissare lo sguardo verso il cielo, a fissare la propria dimora, la propria patria in cielo, a stabilire la propria ricchezza nel cielo, a volgere lo sguardo verso il cielo. Perché? Perché la promessa è che Dio verrà a rapire i suoi e li porterà nel cielo. E quindi Dio sta dicendo alla Chiesa degli ultimi tempi, e noi crediamo che gli ultimi tempi sono ormai vicini, che si deve preparare, deve preparare a partire, deve preparare se stessa a partire per un viaggio senza ritorno, un viaggio verso il cielo, un viaggio che segnerà la fine di questa realtà per la Chiesa. È l'inizio di una nuova realtà che è il cielo. La parola del Signore disse, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Questo ha detto alla Chiesa, annunciando il suo ritorno per prendere i credenti a portarli nel cielo. Vedete, il credente vive con lo sguardo verso il cielo, volge lo sguardo verso i monti, verso l'alto, da dove il Signore sta per tornare. La caratteristica della Chiesa, così come è descritto in maniera meravigliosa nell'Apocalisse, è che grida verso il cielo al suo Signore e gli dice Signore torna. E la risposta di Gesù è, ecco io vengo presto. Ma la cosa straordinaria di questo aspetto sta nel fatto che la Chiesa deve prepararsi ad uscire, avendo il cuore nel cielo. Un episodio che abbiamo letto nel verso 17, gli angeli che andranno a salvare Lot e la sua famiglia, diranno in maniera molto severa, non ti voltare indietro. Nel verso 26 dello stesso capitolo verrà descritta una scena che è veramente dura e che ci fa riflettere. La moglie di Lot si volgerà indietro mentre sta uscendo da Sodoma per guardare ancora la sua città, quella città che Dio stava giudicando. E in quel preciso istante lei si trasformerà in una statua di sale. Aveva intrapreso il cammino verso la salvezza, ma purtroppo il suo cuore era ancora legato a questo mondo. I suoi desideri, la sua passione, il suo sguardo, il suo tesoro erano ancora qui, nelle cose appartenenti a questa vita terrena, a questa realtà che tanto oltraggia e si ribella a Dio. Ecco, l'insegnamento che ci viene da questo da questo brano è che Dio vuole, Dio desidera che la Chiesa cominci a prepararsi per questo viaggio, ma prepararsi amando il cielo, amando Dio, distaccandosi dalle cose di questa terra, prepararsi a partire. Come chi fa i bagagli preparandosi per un lungo viaggio, sa che l'ambiente che lo circonda, quello ha circondato fino a quel momento, presto non sarà più l'ambiente che lo circonderà perché muoverà verso un altro luogo, si sposterà in un altro luogo dove c'è un'altra realtà, un'altra condizione. Così Dio dice alla Chiesa, preparatevi ad uscire, preparatevi a andare fuori, preparatevi a lasciare tutto perché io sto per tornare e sto per tornare a prendere la mia Chiesa. Questa è una delle verità più presenti nell'Evangelo. Purtroppo solo chi rivolge la sua attenzione alla lettura, allo studio della parola di Dio conosce queste verità e io voglio invitarvi con il cuore a rivolgervi alla lettura della parola di Dio, alla conoscenza della parola di Dio perché la parola di Dio ha in sé la promessa della vita e della vita eterna. Ma dobbiamo comprendere che Cristo è venuto per prendere la sua Chiesa e portarla in un'altra realtà dove il peccato non c'è più. Dunque quello che dobbiamo fare è non intraprendere il cammino verso Dio avendo nel cuore come la moglie di Lot tutto ciò che appartiene a questo mondo. Noi abbiamo bisogno come disse Gesù di un cuore nuovo, di una mente nuova e il Signore è pronto a darcela. Vedete il peccato, la realtà intorno a noi non ha un grande futuro. Dio ha stabilito un giorno, non so fra quanto tempo. Io non lo so e nessuno lo sa, così dice la parola di Dio. Non so se Dio ci concederà ancora molti anni dinanzi in questo mondo. Non so se il tempo sarà più breve. Io non lo so. So che i giorni si stanno affrettando e che la malvagità del mondo si sta sempre più manifestando. La ribellione verso Dio si sta sempre più inacerbendo, proprio come Paolo annunciò nella lettera a Timoteo parlando degli ultimi tempi e li vediamo sempre più manifestarsi intorno a noi. E allora io dico il ritorno del Signore è vicino e noi dobbiamo prepararci a partire senza voltarci indietro. C'è un episodio, e con questo concludo nel Nuovo Testamento, uno dei racconti di Gesù in cui il Signore parla di due uomini, uno molto ricco e uno povero. Il povero aveva nome Lazzaro. I due vivono uno a fianco all'altro. L'uno, il ricco, nello sfarzo, nella ricchezza più grande. Il povero nella miseria più profonda. Lazzaro stava alla porta del ricco, ma il ricco non manifesta nessuna pietà nel racconto per Lazzaro. I due entrambi muoiono. Uno andrà in cielo, l'altro sprofonderà negli inferi. Il ricco al ricco tocca la sorte peggiore, alla misero quella migliore. Non si va in cielo perché siamo poveri, né si va all'inferno perché si è ricchi. Ma in questa storia si parla di speranza, di fede. Ma voglio cogliere un aspetto in questa storia. Il ricco, morendo, sapeva di dover perdere molte cose, le sue ricchezze, alle quali era così profondamente legato. Il povero sa che non ha nulla da perdere. Lascia questa terra senza avere nulla a cui aggrapparsi. Ecco, io vorrei che voi meditaste un momento su questo. Mentre il ricco agonizzava nel suo letto, aveva di che voltarsi indietro. Aveva l'amore per le sue ricchezze, che tanto avevano indurito il suo cuore, fatto inorgogliere il suo cuore, reso superbo il suo cuore. Il povero non aveva niente per cui voltarsi indietro. Era un pellegrino che aveva attraversato il corso della sua vita nei dolori, nella sofferenza e non aveva ricchezze da portare con sé. Ora io spero di cuore. Che tu sia ricco o meno, questo non conta. Io spero che la fede che tu hai nel cuore sia così grande da comprendere quale tesoro è nascosto nei cieli per te, che è preparato nei cieli per te. Affinché tu non volga come la moglie di Lot lo sguardo a questo mondo, aspettandoti che Dio possa ritardare la venuta di suo figlio quanto più possibile, affinché tu possa continuare nelle cose che tanto ami di questa terra. Perché non è così che la Chiesa aspetta il ritorno del suo Signore. La Chiesa aspetta il ritorno del suo Dio dicendo a Cristo torna perché il mio tesoro, la mia vita sono custodite in te. Torna perché io desidero te, perché io amo te, perché in questa terra io non ho più niente, non ho niente di desiderabile se non te. Vedete, il cristianesimo non è una mano di vernice su una parete cadente. Il cristianesimo è la conquista totale della mente, del cuore, dell'anima, di uomini e donne trasformati dalla potenza dello Spirito di Dio per mezzo della fede al punto che il loro cuore trabocca dell'amore per Dio e i loro pensieri sono completamente catalizzati dal pensiero di Dio e che hanno una sola speranza che li arricchisce e li entusiasma il ritorno del Signore. Io voglio chiedere a te, mentre lo chiedo anche a me, siamo pronti a partire senza voltarci indietro? O ci sono tanti ma, tanti se, tanti vorrei ancora? O ci sono tanti vincoli, tante catene che ancora ci legano a questo mondo, tante zavorre che ancora impediscono al nostro cuore di librarsi verso il cielo con il cuore dicendo al Signore torna. Ebbene, io credo che Dio ci stia dicendo con grande forza, più che mai, preparatevi a partire senza voltarvi indietro però, perché se il nostro cuore è ancora ripieno della passione che anima questo mondo, della passione verso ciò che Dio non gradisce, verso ciò che ci separa da Dio, verso ciò che distoglie il nostro pensiero, il nostro amore verso Dio e verso il cielo. Allora forse somigliamo più alla moglie di Lot che a Lot. E allora voglia il Signore mettere nei nostri cuori l'urgente, l'urgentissimo sentimento di disporci come Lot a salire verso il monte, che nella parola di Dio è raffigurazione della comunione intima con Dio, affinché nella comunione con Lui noi possiamo essere completamente rinnovati, completamente trasformati nella mente, nel cuore, ricevendo la pienezza del suo spirito e l'azione profonda ed efficace della sua parola in noi, affinché trasformati possiamo essere pronti al suo ritorno senza guardarci indietro. Prepariamoci a partire senza però mai di voltarci. Chieniamo il capo in preghiera. Signore, ti preghiamo perché desideriamo che il nostro cuore trabocchi della Tua presenza. Trabocchi, Signore Dio, della passione per Te, del sentimento profondo e intimo che deve legare ogni credente a Te. Ti preghiamo, Padre, fa che il nostro cuore batta per il cielo. Fa che il nostro cuore, Signore, aneli, brami, desideri con tutto noi stessi il Tuo ritorno. Manda dal cielo il Tuo spirito. Riempi il nostro cuore del Tuo amore e della Tua presenza, affinché, Signore, ripieni di Te e possiamo imparare ad amare Te e le cose che appartengono al cielo. Benedici i nostri cuori nel tempo che Tu ci concederai ancora da vivere su questa terra, affinché possiamo, risplendendo della Tua presenza, illuminare questo mondo con la Tua speranza, con la Tua parola, annunciando, Signore, quanto l'Evangelo insegna. Ti preghiamo, Padre, perché vogliamo essere strumenti nelle Tue mani, ripieni del Tuo spirito. Gloriosamente, Signore Dio, ripieni del Tuo spirito per poter compiere appieno la Tua volontà ed essere testimoni efficaci, mentre ci prepariamo a partire, certamente, senza volgerci indietro. Benedicici in questo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio ci benedica. Dio ci benedica.